Ogni giorno ci sono truffe sul reddito di cittadinanza, questa qua è piccolina perché ce n'è solo uno che truffava, in generale ce ne sono molti di più e i carabinieri, le forze di polizia in particolare svolgono un lavoro straordinario anche sotto questo profilo. Il reddito di cittadinanza non aiuta a risolvere i problemi dell'occupazione. Questo paese ha una disoccupazione altissima e ci sono più di un milione di persone che prendono il reddito di cittadinanza che potrebbero lavorare, io parlo delle persone che potrebbero lavorare. Quindi è uno strumento che non mette in contatto, a parte i navigator che hanno trovato un lavoro, tutti gli altri il lavoro non l'hanno trovato. E quindi qui c'è un problema in cui queste risorse andrebbero trasferite da una parte sulla povertà, dall'altra parte alle aziende per fare le assunzioni.